Wow! Camerà, andiamoci in parente. Fammi segnare il fumo. Ma la cosa bella, sai qual è? Che ora non posso staccare la chiamata perché non sono accorto che sono con l'auricolare. È staccato? Sì, Camerà, andiamo in parente. Bella la tecnologia! Ciao! Grazie a tutti. 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 Sale come se non basta niente. E' salita così. Sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.